Oh ragazzi, alzo le mani, alzo le mani, io non credo di aver visto qualcosa di reale adesso, non credo di aver visto qualcosa che è effettivamente successo, cioè certe cose pensi che possano accadere su FIFA e neanche, cioè è successo qualcosa di allucinante. Penso che adesso, adesso, adesso abbiamo raggiunto uno dei punti più bassi di tutta la nostra storia, perché abbiamo perso quello spezia? Quello forse è il meno, forse è il meno, cioè tutto quello che è successo nel mentre va messo nell'angolo figure di merda storiche, figure di merda storiche, cioè dopo il derby pensavo che figura di merda, ma oggi figura di merda è un termine riduttivo, riduttivo, cioè non riesco neanche a trovare il modo di mettere in ordine i pensieri per elencare tutte le figure di merda che abbiamo fatto oggi, i gol, i quattro gol sbagliati davanti alla porta di Majoral, quattro, non uno, non due, non tre, quattro gol sbagliati da Majoral. Il fatto che comunque anche vincendo 8 a 3, 8 a 2, saresti uscito a tavolino, perché hai fatto 6 cambi, 6 cambi, tu non riesci a leggere il regolamento, non riesci a vedere che nei supplementari c'è tempo per mettere un altro giocatore, ma comunque rimangono 5, c'è lo spazio in più, cioè tu comunque hai uno spazio in più per mettere dei giocatori, ma non ne puoi mettere 6, ne devi mettere sempre 5, qua raggiungiamo livelli astronomici, astronomici, saponara che fa il cucchiaio, entra fusato, Mancini e Paolo Lopez espulsi in 30 secondi, ma questa è roba dell'altro mondo, dell'altro mondo, cioè tu hai, io veramente vi giuro, è difficile commentare una cosa del genere, è difficilissimo, cioè io devo fare pure il video a mezzanotte, mi sono dovuto, fa tutta la serata così, cioè è assurdo ragazzi, è assurdo, io non l'avevo detto eh, dopo non dite che non ve l'avevo detto oggi pomeriggio, ho detto non me la sento tanto scialla, non me la sento tanto facile, io ho paura perché la Roma quando fa ste puttanate come il derby, quando fa ste prestazioni disastrose, si perde, si perde, e poi siamo nel periodo gennaio-febbraio, come se fosse mai successo, a parte gli ultimi 20 anni, a parte gli ultimi 20 anni, che noi in questo periodo, però oggi veramente qualcosa, cioè veramente da mettere nella categoria scherzi a parte, cioè io non riesco a capire, non riesco ancora a comprendere che effettivamente è successo quello che ho visto, quattro gol in casa dallo Spezia, quattro gol, quattro gol, quattro gol, gol di verde di testa che è alto un metro e cinque, un metro e cinque alto verde ti ha segnato di testa, questo che insegnava manco dal fornaio, ti ha segnato verde, ti ha saponare dei cucchiai, saponare dei cucchiai, il rigore scandaloso, scandaloso, ma adesso tutto voglio fare meno che appellarmi all'arbitro, cioè l'arbitro è stato soltanto uno dei motivi per cui questa partita si può riassumere in un cumulo di merda, non sto attaccandomi all'arbitro, cioè l'arbitro ha fatto pena, ma veramente, veramente, veramente pena, l'arbitro e guardaline, hanno sbagliato di tutto, non sto certo qui a dire che è perso in casa con lo Spezia un'altra volta per colpa dell'arbitro, però anche loro hanno fatto la loro bella figura di merda, a parer mio, io non riesco veramente a pensare, cioè tu hai buttato via un primo tempo, nel secondo tempo hai giocato solo tu, hai fatto due gol, ne potevi fare almeno cinque, se mai Oral non si fosse trasformato nel peggior Vucinic della storia, della storia, nel tempo supplementare, cioè tu hai il vantaggio di aver recuperato il risultato, di essere mentalmente messo meglio dei tuoi avversari in teoria, perché loro erano un vantaggio 2-0, con giocatori che finora erano tutti panchinari, cioè tu hai perso, hai preso 4 gol dallo Spezia B, hai preso 4 gol dallo Spezia delle riserve, io queste cose non le capisco, non le capisco perché la squadra deve all'improvviso spalire sempre, con Fonseca, con Garzia, con Spalletti, con Ranieri, con chiunque, quando ti capita questo periodo muoiono tutti, mentalmente, mentalmente, io non riesco veramente a credere, cioè, il bello è che neanche questo è il risultato, perché tu comunque perderai 3-0 oggi, 3-0, perché hai fatto 6 cambi, cioè tu prima, prima, cioè, inizio campionato, fai la stronzata del far giocare i diavrati, metterlo negli under quando è over, e già quella è una puttanata clamorosa e ci siamo andati oltre, oggi si è raggiunto l'apice, si è raggiunto l'apice oggi, cioè io veramente rido per non piangere, perché ormai ci sono abituata a resce nello stesso tipo, ma comunque rimango sbalordito, mamma, io credevo che sarebbe stata dura, credevo che sarebbe stata dura, ma vede una cosa del genere raggiunge livelli clamorosi, e noi ancora stiamo fermi sul mercato, ma a parte quello, a parte quello, il mercato non c'entra un cazzo, non c'entra un cazzo, è proprio una questione di testa, perché tu, ok, loro vanno in vantaggio con un rigore che per me non c'è, ma dopo come reagisci? Prendendo un altro gol da deficiente, da saponare a che anche oggi lui sembrava stralipante? Veramente, io, cioè, mi vien da ridere perché mi lamentavo tempo fa che non facevo visual, ma la Roma mi sta aiutando col derby, con questa partita, adesso le visual fioccheranno, quanto so contento, mamma, sono proprio contentissimo, adesso sto video farà un sacco di visual, che bello, sono proprio contento, grazie Roma, grazie Roma che ci fai piangere e bestemmiare ancora, bestemmiare ancora, io, oh mamma mia, io, cioè, siamo dovuti arrivare anche a mezzanotte per vedere una cosa del genere, a mezzanotte, cioè, tu arrivi ai supplementari, tu dici, c'è mezz'ora in più per spingere, per fare il terzo gol che non sei riuscito a fare nel secondo tempo, dopo un minuto, due spulsioni, due spulsioni in 10, in 15 secondi, non ha fatto in tempo a far vedere il replay dei Mancini, anche lui un grande efficiente, complimenti, subito dopo, espulsioni di Paolo Hobs, cioè, io, ho anche pensato per un attimo, eh, ma, per una volta abbiamo la parte del tabellone favorevole perché non incontreremo Milan, Inter, Juve, Atalanta, se non in finale, e poi vanno a succedere queste cose, io, purtroppo, non so che dire, non so che dire, perché la squadra è morta, cioè, all'improvviso, come sempre, all'improvviso, cioè, tu, quando ti illudete, allora, imparate questo, tifosi della Roma, quando voi vi illudete che la Roma possa fare qualcosa di buono, datevi un cazzotto in testa, così, pum, o nelle palle, se volete, almeno vi ricordate di non farlo, perché dopo rimanete tutti male, io stesso mi ero illuso che quest'anno si potesse fare qualcosa di buono, non un scudetto, ma qualcosa di buono, adesso ci ritroviamo a gennaio, fuori dalla Coppa Italia, in campionato, lontani anni luce, ma comunque, se siamo lì, ma, di sto passo dovevo andare, io, boh, me devono spiegare perché la squadra fa queste cose, me lo devono spiegare, me devono dire perché la squadra all'improvviso fa queste cazzate, cioè, poi Fusato, Porello, quello che non giocava manco in Serie B in Portogale, dovuto entrare a lui, ha preso un gol da coglione, proprio, mamma mia, io, non so che di, basta, cioè, se voi aspettavate lo sfogo che spaccavo tutto, lo sapete, non l'avrei mai fatto, però, vi giuro, mi sembra di vedere FIFA, mi è sembrato di vedere FIFA, il rage quit dei giocatori che all'improvviso prendono due espulsioni, mi è sembrato di vedere FIFA, uguale, uguale, con gol dei cucchiai all'ultimo, io a quel punto avrei buttato via il joystick per farvi capire, C'è la gente, poi, dà anche la colpa a Fonseca, che avrà le sue colpe, per l'amor di Dio, le motivazioni, contano, e questo e quell'altro, ma porca di una puttana, ma se i bagnets nel derby dorme, ma se Majoral davanti alla porta si è mangiato almeno quattro gol, almeno quattro gol, se in un minuto Mancini e Paolo Opec prendono due rossi, ma il puro Fonseca, ma che cazzo deve fare? Ma che deve fare? Diamogli le giuste colpe? Adesso tutti ha di Fonseca merda qui, Fonseca merda là, ha le sue colpe, per l'amor di Dio, anche lui sbaglia, anche oggi ha fatti cambi al settantesimo, ma falli più tardi, ma Geko, ma mettilo 5 minuti alla fine della partita, invece, cioè, però anche lui naviga nel nulla, cioè, Geko lo ha messo per farlo essere propositivo davanti, all'improvviso gli ha dovuto togliere tutti i rifornimenti perché si è rimasti 9, in 9, in 9! Beh, che altro di ragazzi? Io so senza parole, basta, so senza parole, io non so veramente che di, beh, è tragica, è tragica, la situazione è tragica ragazzi, è tragicomica, è tragicomica, cioè, per un esterno è comica la cosa, cioè, perché tu guardi una squadra che non solo prende 4 gol in casa con lo Spezia, 4 gol, ma addirittura resta in 9 e addirittura avrebbe perso comunque, perché tu hai fatto 6 cambi e nell'arbitro e nel quarto uomo ti hanno detto niente, ma vabbè, loro non sono obbligati neanche a dirtelo, quindi vabbè, tu hai fatto 6 cambi e non si potevano fare, hai fatto 6 cambi e non si potevano fare, in serie A, in serie A, tu non riesci a capire che se fai un cambio in più perde tavolino. Basta, basta, io, noi ci vediamo eventualmente domani, non penso che farò le pagelle perché forse per la prima volta non so che voti dare, non so veramente cosa giudicare. Buono a tutti ragazzi, io adesso mi, mi, mi sparo, vabbè, sparo no però. No, basta, 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 basta.